Bella raga, sono Ameta Matteo e vi salve in un nuovo video. In questo video, come avete letto nel titolo, voglio segnalare due persone. In questo stesso momento stavo giocando alla Playstation normalmente, ok? Stavo giocando precisamente a Overwatch. Quando stavo giocando, tutto l'entretto ho trovato due persone che mi sono accorto che li si sono comprato in modo stranissimo. Vedevo che ballavano, giravano, ma non giocavano. Io ho attivato l'audio e cosa mi sono accorto? Mi sono accorto che in totalmente allora stavamo prendendo per il culo tutta la gente. Uno. Due, stava prendendo per il culo precisamente l'Italia perché diceva Napoletano. Io non sono napoletano. Allora, e poi smettevano il traduttore, mettevano il traduttore per capire quello che gli dicevo e che gli dicevo, andate totalmente via da questo gioco perché se siete qui per prendere per il culo qua la gente, andate via totalmente. Allora, mettevano il traduttore, ah 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 ah, che bello! Allora ragazzi, adesso io metterò il nome di questa gente qua che prende per il culo, mentre si mette nel gioco, sono andato per prendere per il culo. La gente, l'Italia soprattutto, perché proprio stavano lì precisamente per capire le mie parole e poi dopo prendere il culo a risare, fare le risate, le risate, le risate, le ah 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 che bello! Stiamo perdendo! Ragazzi, segnalate queste due persone che mi metterò esattamente il nome. Voi segnalatele, bloccatele. Sovrattutto segnalatele, segnalate ovviamente niente. Iniziamo col primo, ok? Metto il primo nome. Ok, questo qua è il primo nome. Voi mettete quello che ho detto, mettete segnalatele il più possibile e poi dopo adesso mettiamo pure anche il secondo che erano due persone, quindi mettiamo anche il secondo nome che prende per il culo l'Italia e prende per il culo tutti i player che giocano a qualsiasi gioco. Cioè, in senso, tu giochi a un videogioco, loro quello che fanno è ti prendono per il culo pesantemente e basta, non giocano, prendono solamente per il culo. Quindi adesso mi metto anche il secondo nome che erano tutti e due insieme. Insieme. Ok, adesso avete visto tutti e due i nomi che prendono per il culo l'imposto che giocare prendono per il culo la gente, anche specialmente l'Italia perché ho visto proprio che loro si mettevano a mettere il traduttore, ok? In base di giocare, poi ballavano, facevano altre cose senza giocare e mettevano il traduttore per capire quello che dicevo io e prendevano per il culo l'Italia e dicevano, ah, sei una voletana! Ed erano questi qua, erano francesi, che lo si verrà anche dalla lingua e lo francese è anche turchi o quello del genere e quindi, ragazzi, ricordatevi, segnalate pesantemente e bloccateli ma tanto anche, ok? Ciao, raga!